La pioggia, scesa copiosamente per tutta la mattinata su piazza della rinascita di Pescara, non ha fermato l'evento Race for the Cure virtuale europea 2020. L'evento, organizzato dal Comitato Abruzzo di Coma in Italia, ha proiettato Pescara tra le numerose città europee che nel weekend scorso hanno animato la versione virtuale e da a distanza della manifestazione. L'unica possibile è che ha l'obiettivo comune di accendere i riflettori su una patologia oncologica complessa che ogni anno colpisce oltre 50.000 donne nel nostro paese e che va contrastata con un'arma preziosa, la diffusione della cultura della prevenzione. Lo tsunami emotivo che comporta, legandoci in un abbraccio virtuale che trasmetta forza, grinta e determinazione, perché è questo che dobbiamo avere nell'affrontare questa patologia. Questo è per me il vero spirito della Race e purtroppo quest'anno non abbiamo potuto realizzare l'edizione dal vivo, ma questa edizione virtuale è altrettanto importante per mantenere alto il livello di attenzione su una patologia che purtroppo ogni anno colpisce 50.000 donne nel nostro paese e una donna su nove sperimenta questa patologia. Il dato che fa sperare arriva dalle donne che riescono a superare questa patologia con percentuali che si attestano intorno al 90%, ma il tumore alla mammella continua ad essere in costante crescita. Secondo i dati quest'anno si arriverà a toccare quota 55.000 donne operate in Italia, a preoccupare anche la soglia di età che si sta abbassando sotto i 50 anni per il 41% delle donne. Noi operiamo sempre di più, un po' come un gatto che si morde la coda, cioè noi operiamo sempre di più, però apriamo la porta degli ambulatori e gli ambulatori sono sempre più pieni. È importante che le donne facciano sempre i controlli, bisogna cominciare a fare i controlli anche in età più giovanile, perché ormai capita spesso di operare delle donne sotto i 30 anni. Grazie a tutti.